Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Oggi siamo su One Piece Bounty Rush Allora ragazzi, signori e signori, come avete potuto notare in game è tornato di nuovo Roger Il re dei pirati, il king, il personaggio in assoluto più sbagliato e rotto su OPBR Cioè nel senso se tu con questo personaggio puoi andare ovunque, cioè nel senso ranki come se nulla fosse Ok, allora, è un sito Roger Extreme Bounty Festival Abbaccia Step Up con questi ticket viola a 1750 gemme garantito per una copia Esattamente con l'anniversario, soltanto che questa volta nello Step Up ad ogni step avrete un 4 stelle garantito A differenza dell'anniversario che invece non c'era nessun 4 stelle garantito nei vari step Ragazzi, il discorso qual è? Io capisco che molti di voi siano tentati Cioè comunque Roger, c'è chi se l'è perso, c'è chi lo vuole per forza Ragazzi, ma secondo voi perché hanno fatto ritornare Roger adesso? Un personaggio così forte adesso Questo conferma soltanto il fatto che l'Extreme che faranno ad agosto Sarà sicuramente dello stesso livello ma sarà anche leggermente sopra Ma come lo è stato al primo anniversario è uscito Shanks Titch Titch e Shanks sgravati come non so cosa Ad agosto è uscito Big Mom Extreme Che come Big Mom Extreme era veramente esageratissima Esageratissima in quel meta Cioè ragazzi, quindi È ovvio che adesso facendovi uscire un personaggio rotto del calibro di Roger E prossima settimana, probabile, oltre che a nuovo Bounty Festival avremo anche Oden Questo conferma, va soltanto a confermare il fatto che l'Extreme di Agosto Che sia Kaido, che sia quel che volete voi Sarà sgravato Quindi, che cosa fare? Pullo da Roger o non pullo da Roger? No ragazzi, non pullate da Roger Non pullate, non pullate Cioè almeno se pullate Pullate con la consapevolezza di andare ad arrivare al garantito Però se è arrivato al garantito di Roger Dopo non avete le gemme per l'Extreme di Agosto Ragazzi, l'Extreme di Agosto sarà illegale E uscirà tra un mesetto ormai Un mesetto manca ormai Cioè quindi, di cosa parliamo ragazzuoli? Fidatevi, tenetevi le gemme Risparmiate, risparmiate E fidatevi che sarete ripagati Ovviamente con il fatto che Roger l'hanno proposto a 1750 Penso che anche l'Extreme dell'anniversario 2.5 sia a 1750 Però magari, che ne so Rinveiscono un attimo e ritornano a 1500 Però sì, parliamo comunque sempre di cifre altissime Quindi ragazzi, dovete tenere se volete l'ex garantita Niente ragazzi, ci troviamo a fare questo video Insomma, dove parlavamo Insomma, vi facciamo un po' capire com'era La faccenda in questo momento Perché giustamente con l'uscita di Roger Insomma, ha spiazzato molto i giocatori Soprattutto quelli nuovi Poi se siete giocatori nuovi nuovi E dovete rerollare Siete proprio nel momento migliore in assoluto Pulate da Roger Fate reroll con Roger Se tenete tutte le gemme E poi vi pullate l'ex ad agosto Tranquilla Questo sì Per voi che rerollate Questo penso che sia la fase migliore Ovviamente noi player veterani È inutile il gioco Cioè, dobbiamo tenere per agosto Ma in generale, ragazzi L'obiettivo rimane fine agosto Niente ragazzi Questo era il video di oggi Un po' breve Però insomma Secondo me andava Era giusto che andasse fatto Io vi invito a lasciare un like Iscrivetevi al canale Ragazzi Iscrivetevi che è gratis È gratis Cioè E ci guadagnate anche Attivate la campanella Le notifiche Per non perdervi nessun video Così vi arriva direttamente Come notifica E potete andare a vedere il video Vi ricordo il link in descrizione Dei vari gruppi telegram E canale news E noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao